Invece di chiamare in causa adesso la nostra tribuna, parliamo anche un po' di sci. Voi andate a sciare? Mai sciato, mai sciato. Ma io l'ho fatto due volte, spazzaneve. Risultati? Era quella semplice di Madonna di Campiglio, siamo stati in piedi, dai. Cioè sul falso piano? Esatto. Ma il pupazzo di noi l'ho fatto? Ah, anche tu. Ma il pupazzo di noi l'ho fatto? Allora ci siamo. Io ho schivato i cannoni. Uno fa il pazzo di neve, l'altro sul falso piano, quindi qualcosa con la neve, via. Ci si può saltare fuori. Allora, Carlo Rodolfi, intanto presidente dello sci-club di Guastalla. Intanto una curiosità, uno sci-club a Guastalla non è che sia proprio... La domanda che oggi mi hanno fatto tutti e che probabilmente fanno a lei e a tutti quelli iscritti allo sci-club di Guastalla è d'estate. Cosa fate? Scinautico sul po'? Questa è la domanda che ci sta. Ci sta anche la risposta in questo senso qua. No, facciamo attività anche d'estate. Perché per fortuna, anche se stanno molto calando, ci sono i ghiacciai, in questo caso qua. Perciò ci spostiamo in Francia, perché purtroppo gli ghiacciai italiani stanno molto riducendo e pertanto c'è poco spazio. Però facciamo qualcosa anche d'estate. Anche se, devo dire che dopo una lunga stagione invernale che comincia da ottobre e finisce tra marzo e aprile, qualche mese di riposo e di pausa ci vuole un po' per tutto lo staff. Ecco perché... Bisogna recuperare, insomma. Sì, bisogna recuperare tanto. Ecco, ma per dare un'idea, i numeri dello sci-club di Guastalla? Eh, i numeri sono importanti. Anche perché è vero, è strano essere a Guastalla, è strano essere sul po', in questo caso qua. Però possiamo contare quasi 500 associati, in questo caso lo sci-club, ormai da diversi anni. Perché lo sci-club compierà quest'anno 35 anni di attività. Spero che non vi muoviate tutti assieme perché siete peggio della squadra di futbol americano. La squadra di futbol americano fa le trasferte in 80, ma se voi vi muovete in 500... Eh, diciamo che c'è che è contento, parliamo delle stazioni invernali, in questo caso qua, che quando si vedono arrivare chiaramente cominciano a fare un po' di numeri, perciò sono molto soddisfatti. Diciamo che è un pochino meno contento la nostra segreteria, amministrazione, quella che deve gestire un po' il tutto e verrete impegnata, tanto impegnata su questo aspetto. Per dare un'idea, la stagione come si articola? Diciamo che l'inizio della stagione comincia a settembre, con la classica pescistica, che facciamo sia per gli adulti che per i bambini. E questo qua fino al mese di dicembre, giusto per dare un po' di preparazione a tutti. Poi a novembre cominciamo con la prima uscita all'estero, perché purtroppo le nevi arrivano prima al di là delle Alpi, perciò arrivano in Austria, in questo caso qua, poi ci spostiamo là. Poi a dicembre cominciamo con una domenica, che sono già diversi anni che la facciamo per favorire un po' tutti a testare la neve, perciò lo dico anche ai nostri ospiti qua, qui di fronte, che è una domenica in quale tutti possono provare, a vedere se sono portati allo sci, in questo caso qua, per provare. Eh ma che sfortuna, uno deve giocare e l'altro deve seguire le partite. Diciamo che hanno la scusa pronta. Ah, non ce l'abbiamo vietato per contrato. Ah, vietato per contrato. L'abbiamo vietato per contrato. E poi invece la vera stagione, il cuore della stagione comincia adesso, perché già da domenica cominciamo con i corsi di sci, che sono quattro domeniche, il mese di gennaio incentrato, nella quale quest'anno con soddisfazione e con un po' anche di preoccupazione, visti i numeri, avremo circa 160 persone che vengono a fare i corsi di sci, c'è un bel numero veramente che ci fa piacere, perché vuol dire che stiamo lavorando anche positivamente. Eh, complimenti.